Vediamo Max con la cosa più spenta Lei proprio non può resistere, quando vede qualcuno vestito ci deve andare a intervenire, a mettergli le mani addosso Mi vuoi mettere le mani addosso? No, tu sei bene Ah grazie Ok, Paola invece fa l'indifferente ogni volta che c'è la telecamera, fa finta di niente Oh ma cosa ci sarà in fondo? Guarda Eh, lei sta cercando del tizio Oh ti abbiamo dato una missione Nicole, cavolo Ma dico uno si dice una cosa e tu non la fai, ma come hai ragione, ma come lavori? Che uomo inaffidabile Non mi paghi, lavora come voglio, giusto? No, no Sì ma se non ci sono le puntine a meno che non... Ok, se non ci sono le puntine mi faccio... Wasabi Ok, io vado a sparare, ciao Non ti pare troppo, mamma Guarda